Lo strumento statistiche di mercato è utile per realizzare un monitoraggio della situazione aggiornata costantemente in tempo reale di tutti i mercati offerti da iVBank. In particolare, questo tool restituisce velocemente i titoli migliori e peggiori della seduta in corso relativamente al mercato selezionato. Ad esempio, se si desidera conoscere le 10 azioni con performance di rilievo in questo momento sulla borsa di Francoforte, basterà selezionare Borsa tedesca, poi XTR che corrisponde al mercato Xetra, quindi scegliere il tipo di informazione desiderata, in questo caso la variazione percentuale ottenuta selezionando il simbolo VAR per cento. Passando al mercato italiano, le informazioni disponibili sono riferite a più comparti, dagli ETF fino ai Covered Warrant. Se si prende come esempio l'MTA, come si può vedere, si dispone dell'informazione sui titoli più performanti sotto la voce VAR per cento, ma anche di quelli che stanno scambiando maggiormente, sia in termini di valuta, sia in termini di controvalore. Interessante anche l'informazione relativa ai titoli attualmente sospesi. Se si volessero visualizzare le informazioni limitatamente ai titoli del Fuzzimib, sarà sufficiente espandere la voce Fuzzimib in questo modo.